Ufali dell'Amazoni incazzati con gli dei Ed ecco qui il ritorno del King King Allora ragazzi Il mio ringraziamento speciale Va a tutti quelli che mi hanno ancora sostenuto E scritto nei commenti Vi ringrazio molto Il mio regalo sarebbe fare 1500 iscritti Per questo mio ritorno Ragazzi lo so che ci possiamo arrivare a farlo Per questa volta Un po' più particolare Geometry Dash Light Un bel po' di video Soprattutto quelli del pre-partita Metà-tempo e post-partita Perché stasera c'è Napoli-Spezia Con Napoli-Milano mi dico solo che mi stava venendo mezzo infarto Però vabbè Precediamo con il gioco Allora si chiama Geometry Dash Light Perché non lo conosce veramente come è uscito Che nel 2016 andava in moda Tra cui l'altro è scoperto che il secondo livello Di questo gioco La musichetta è quella che è statigiosa Allora che bello Giocare in questo quadrato E qui Wow Allora Questo primo livello sono all'81% Poi ovviamente adesso Sono anche più difficile Questeremo un po' tutti insomma Per fare una partita Per ogni livello Allora Beh se perdiamo Anche prima Vabbè famiglia Vediamo il record Ma ragazzi Finiamo un po' di livello Sarei molto felice Con questo passo ragazzi Se ogni tanto Vedete che sto un po' zitto È perché Non c'entra Trai a dare Siccome non voglio perdere Perché Cioè Vorrei Un po' vincere Dai ragazzi Sentitemi Non vinco mai Vi volevo fare anche I miei più sereni amuri Di Natale Però il 25 Sicuramente caricherò Qualcuno Non vi preoccupate proprio Cioè mi sembra almeno Caricare il 25 Anche a capodanno Qualche speciale Peta Armi Ste cose qua Lo farò sicuro Ragazzi Io non vinco di preoccupare Abbiamo fatto Tutto 5 Dai Ho superato il record Unico L'obiettivo Di quest'oggi È superare il record Ah questo è il rivello Con la musica Sentita Questo è il quadrato Io lo faccio Presentino Sto lasciando un po' Sentire la musica Ragazzi Perché è bella Raga Mi hai venuto Sembra Ma che bello Giocare in questo quadrato È bellissimo Dai abbiamo fatto La partita con questo gioco Dall'ora Cos'è No raga Sulle pubblicità Che schifo Che brutte Che cos'è sto gioco Raga Aiuto Ragazzi Mi hanno immerso Nel mondo delle pubblicità Raga Vi assicuro Che non sto sparando Io qua Vabbè Andiamo via YouTube per favore Non è nessuna pubblicità Non ti preoccupare E niente ragazzi L'hanno fatto tornare La lupo Vabbè Può capitare Non fa niente Allora Intanto dobbiamo procedere Con il video Abbastanza veloce Perché tra poco Devo andare Allora Vai Iniziamo con l'altro Questo E' un po' E' un po' Scoprino Scoprino Il mio canale Tutti Il prossimo Vabbè Anche un po' Di gente Già Ho paura di essere giudicato Però Vabbè Abbiamo superato Anche qui Laga Perché ho fatto 18 E qui ho fatto 21 Quindi Anche buono Dai ragazzi Dai Procediamo Dry out Qua ho fatto 10% Vediamo se lo riusciamo A superare Dai Anche se Si rispetta Un po' Difficile Come dicevano Questo Ragazzi Ve lo dico Non è facile Perché ci amiciniamo Sempre a quello Poi difficile Quindi lascio Maggiungere Allora E mannaccia Vabbè Non è messo Eh La devata così Però devo Questo non ho mai fatto Quindi anche un per cento Sarebbe il record Raga Però vabbè Allora Procediamo Mi sembra Abbastanza facile Come livello Visto 9% Dai Proprio Prima di fare Giusto un'altra partitina Perché Mi appassiona Raga Carino Se mi impegno Lo posso anche finire Secondo me Ragazzi Che Non mi sembra Più di tanto difficile O perlomeno All'inizio Eh raga Poi non lo so Io Mi caso Sono già arrivato Lontano Beh 15% Dai Can't let go Procediamo Oddio ragazzi Scusate Mi sono distratto Per le notifiche Vabbè Per capitare Allora Eh niente Un po' difficile Ragazzi Non vorrei dire Però Gaccia Non procediamo Jumper Questo Non lo so Mistico Anche lui Vediamo Guarda ragazzi Avete visto New best 1% Complimenti a me Ah ma Questo è all'incontrario Se segui la mappa Di sopra Capisci Allora Che figo Raga No vabbè Ma che figata Il mio padre Non ci sarà Purtroppo Perché Lavoro fuori Quindi non ci sarà Di post partita Mi dispiace Ragazzi Lo vedrete Direttamente domenica Vabbè Che fa Può capitare Allora Ehm Vabbè 7% Molto difficile Questo Time machine Ragazzi Qua ci iniziamo Ad avvicinare Alla Cosa è difficile Ragazzi Bellini Allora E niente Procediamo Secondo me Il tempo è poco Per i video Niente Ragazzi Riprovo Perché Non si sa mai Scusate Però Voglio riprovare Non può Invece Si Può Che un bravo bimbo Ciao 7% Ma mi accontento Non direbbe Un vecchio saggio Procediamo Perché sono volato Non ho capito Qua c'è una cosa Ok Va bene Qua voglio fare Un po' poco Raga Mi devo spucciare Perché Può andare a fare Alcune cose Mesco Perché qua Sono mortato Non ho capito Ragazzi Aspettate Non è che Non mi voglio Dedicare Te Poi per carico No perché Perché Stiamo Marendo Io non le ho toccate Io non le ho toccate Perché Raga Non riesco a capire Per favore Vitevi nei commenti Perché muori Qua Non vi do niente Non vi do niente Non vi do niente Non vi metto insieme Raga Scusate Ma c'è quel conso Capito Va così Capito Raga Aspettate Quindi Ok Bene così 3% Wow Bellissimo Questo raga È il 12 Difficile Già Penso Eh sì Infatti Raga Raga Sono andato Completamente A caso C'è così Tanto 3% Minchia E per fare Il 10% Che cazzo Devi fare A tutto il livello Cioè È presto Un parere Non mi bombardate Di insulti Nei commenti Per favore Allora Procediamo Troppo difficile Facciamo questo Ah raga Questo è l'ultimo Ok Questo mi devo Concentrare Ma no Ragazzi Ho fatto 9% Devo togliere Un poco Questo Ok raga Allora Ehm Vabbè Ne abbiamo fatti Tutti In teoria Raga Non so Penso che Questo video Vi possa piacere Ehm Mi raccomando Ci vedo una cosa Il mio account TikTok Dove dovete Andarmi a seguire Ok Questo qua Ragazzi Sono io Dai mi raccomando Andatemi a seguire Seguitemi tutti Mi raccomando Vi voglio bene Ragazzi Eh Si conclude Ehm Si conclude quel video Ci vediamo dopo Quegli altri Anche perché Devo mettere il telefono Sottocarica Ritorniamo un attimo Nel canale Bellissimi i miei video Ah no Due mesi fa Ragazzi ho fatto L'ultimo video Va bene così Ho 1270 iscritti Niente ragazzi Il video finisce qui Ciao ciao Ciao